Da una recente indagine condotta da Asso Salute emerge che due italiani su tre soffrono periodicamente di disturbi gastrointestinali, quali gonfiore addominale o cattiva digestione. Le cause sono molte, legate in parte ad un'alimentazione non equilibrata, ma anche la sedentarietà e lo stress incidono sulla salute del nostro apparato digerente. I problemi nascono o nella parte alta dell'addome, il digerire, avere difficoltà nella digestione, oppure nella parte bassa e quindi avere problemi di funzione intestinale, diarrea, stipsi, gonfiore. Oggi questo problema del gonfiore sta diventando diciamo particolarmente critico. Le cause nascono a vario titolo. Il primo problema sicuramente è rappresentato oggi dal modello alimentare. Irregolarità alimentari di vario tipo sono parte in causa nella più massima frequenza in questi casi. L'altro aspetto è lo stress, la condizione emozionale. Molti sono ansiosi di loro, ma vivere condizioni stressogene in famiglia, al lavoro, per la logistica, trasportare persone da un luogo all'altro oggi è diventato spesso cosa complessa. L'altro capitolo è rappresentato dall'attività fisica, dal comportamento in senso più generale e la sedentarietà gioca un ruolo estremamente critico. Molte volte da indagini anche ripetute nel tempo non emergono dei disturbi che possono essere riferiti ad una patologia. In quel caso magari si parla proprio della famosa sindrome di intestino irritabile. Come ci si comporta un paziente che riferisca a dei disturbi continuati nel tempo? Voi che cosa suggerite? Intanto qui occorre la diagnosi, perché avere un sintomo non vuol dire avere una malattia o avere una diagnosi. Questo vale per l'apparato intestinale, vale anche per l'apparato gastroco, gastroduodenale, biliare. Quindi si parla di dispepsia funzionale, vale a dire una difficoltà nel digerire non legata a un'ulcera, legata a un'ernia, ma legata al fatto che il processo digestivo è rallentato, avviene con fatica. Così come, lei citava il colon irritabile, anche questo è una bella parola ma dice poco, nel senso che nasconde tanti buchi neri. Che cos'è il colon irritabile? È avere una serie di fastidi in sede addominale, gonfiore, sensazione di malessere, difficoltà di vario genere nell'evacuazione. E tutto questo spesso nasconde capitoli che oggi sono in fase iniziale di definizione. È quello che noi chiamiamo il secondo cervello. È un bel termine, ma è un termine che ha dei contenuti molto significativi e fa riferimento alla flora dell'intestino, al microbioma che dialoga con noi, dialoga col nostro corpo, dialoga col cibo, con i residui cibali e attraverso processi di fermentazione, produce sostanze che vanno poi a influenzare il cervello primario, così come viene influenzato attraverso il nervo vago, attraverso varie altre fenomenologie. Quindi parliamo di disturbi molto comuni, molto frequenti, che condizionano la qualità della vita di molte persone e che in momenti particolari dell'anno possono diventare più critici. Un consiglio molto spesso è quello di seguire una corretta alimentazione e però quel corretta forse va spiegato perché in qualche maniera probabilmente molte persone pensano di seguire una corretta alimentazione e invece molti errori sono comuni. Beh, gli errori sono relativamente facili da identificare, nel senso che tutto sommato oggi la conoscenza dei modelli comportamentali di tipo mediterraneo, le modalità anche di assunzione del cibo sono note. Il fatto di sapere però cosa si deve fare, questo vale anche per il fumo, non vuol dire che uno poi segua costantemente queste regole. La prima regola secondo me è la quantità del cibo. Occorre che i pasti siano sufficientemente regolari nella loro distribuzione, nell'arco della giornata, non saltare la colazione, non avere il caffè scappa e fuggi, ma avere un pasto corretto la mattina, il pranzo e la cena che devono essere non un momento diciamo di conclusione della giornata, specie la sera, con la sintesi di tutti i pasti del giorno, ma distribuiti correttamente. Quindi pasti di piccolo volume. In genere il consiglio è di non bere troppo durante i pasti perché questo diluisce i succhi, rende più gravosa la digestione, distende lo stomaco e cercare di contenere determinati tipi di componenti, soprattutto la materia grassa, sia cotta che cruda, ma i condimenti, l'unto in generale è in grado di affaticare molto molto la digestione. E poi avere equilibrio nelle scelte alimentari, occorre vi sia una saggia ripartizione fra i cibi, non è proprio necessario che vi siano pasta e carboidrati a pranzo e proteine alla sera, bisogna avere buon senso come si è sempre fatto nella vita, magari la frutta a utilizzarla per esempio come uno spuntino fuori pasto, questo sì per non caricare troppo il volume gastrico. Sicuramente andando verso le feste e le festività natalizie la quantità e la qualità del cibo può essere magari molto buona da un punto di vista di gusto ma non altrettanto da un punto di vista di dieta equilibrata, come comportarci? Beh qui il problema è un classico, tutti gli anni se ne parla ma tutti gli anni si arriva un po' sempre allo stesso problema, tra Natale e Capodanno gli eventi sono tanti, c'è l'incontro con i suoceri, c'è l'incontro con gli amici della squadra di calcetto, con i genitori dei figli, gli amici dei figli e tutto questo fa sì che vi sia una concentrazione elevata di pasti, quindi non è solo il pasto unico ma è l'insieme, la globalità degli eventi che genera l'esigenza di fare attenzione, intanto saltare qualche portata, non è obbligatorio seguire il pranzo dall'A alla Z, cercare di non fumare quantomeno nell'intervallo fra una portata e l'altra, fumare è negativo in assoluto però a maggior ragione lo è in questo contesto, limitare il consumo di bevande alcoliche perché veramente si assiste a volte ad un abuso marcato in questi giorni, cercare di contenere anche qui la quota soprattutto di zuccheri e di grassi, di materia grassa e poi cercare di smaltire tutto questo attraverso una sana attività fisica, una bella passeggiata dopo il pasto, cercare di non cenare troppo tardi, anche questo è un altro capitolo importante perché ovviamente finire la cena a mezzanotte e alla mezzanotte e mezza di sera letto non è un buon viatico per la digestione, quindi le regole sono relativamente semplici, diventa più difficile seguirle in questo periodo perché insomma la gioia delle feste spesso la si celebra in modo di era primaria a tavola. Molto spesso per piccoli disturbi gastrointestinali si ricorre all'automedicazione, quindi a prodotti in qualche maniera a cui uno è già abituato perché li ha già assunti. Quando sono invece magari quei campanelli d'allarme per cui è bene invece rivolgersi al medico? Vi sono alcuni segnali importanti e un segnale è il dolore, quando questo dolore non si risolve con un antiacido, con un analgesico banale ma continua nel tempo, magari è retrosternale alla bocca dello stomaco, ecco se questo dolore continua ed è ingravescente occorre rivolgersi al medico o ad un pronto soccorso. Un altro segnale importante è quando vi è vomito incoercibile, cioè vomito che si mantiene nel tempo e quando compare sangue. Voi per via orale oppure per via rettale la presenza di sangue impone sempre un approfondimento, deve essere guardata con particolare attenzione. Quindi questi sono i segnali più semplici, più facili per identificare il momento in cui è saggio interrompere la autogestione del problema acquistando farmaci in farmacia. Oggi tra l'altro questa è una cosa molto bella, è possibile acquistare non solo integratori ma anche farmaci veri e propri e quindi per ciò che attiene l'apparato digerente antisecretivi che bloccano la produzione di acido, antiacidi, procinetici che favoriscono la digestione e lo svuotamento dello stomaco o antidiarrea oppure prodotti che stimolano la parte intestinale se questa rallenta. Quindi questo è bellissimo però quando intervengono segnali come quelli che ho citato è saggio perdere un po' di tempo e affacciarsi alla porta di un medico o di un pronto soccorso. I disturbi gastrointestinali sono molto diffusi tra gli italiani, quasi due italiani su tre dichiarano di soffrirne durante l'anno e di soffrirne anche abbastanza frequentemente quindi è sicuramente un punto di attenzione. Le festività natalizie ovviamente accentuano soprattutto alcuni tipi di disturbi però diciamo sono sicuramente un periodo delicato e dalla ricerca emerge che sono sicuramente più diffusi e colpiscono anche quelle persone che durante l'anno sono esenti da disturbi gastrointestinali ma comunque le festività natalizie discatenano. Quello che emerge di interessante è il fatto che comunque nonostante sia un disturbo diffuso se ne soffra spesso frequentemente circa il 40% degli italiani nonostante ne soffra e non si prepara in alcun modo alle festività natalizie né prima né dopo quindi adeguando minimamente la propria età alimentare piuttosto che facendo più attività sportiva e invece poi utilizza all'occorrenza quando poi inevitabilmente di disturbi arrivano sicuramente l'automedicazione che è il rimedio più diffuso e poi sempre i vari classiconi rimedi della nonna e comunque appunto l'automedicazione è sicuramente il rimedio più diffuso poi certo si chiede anche al medico e al farmacista un consiglio per per guarire e stare meglio. Per gli italiani i fattori scatenanti sono sostanzialmente legati all'alimentazione quindi non solo l'aumento del consumo di cibo di cibi ma anche la varietà cioè durante magari le feste si consumano dei cibi che non si è abituati a consumare durante l'anno però non è solo una questione di alimentazione soprattutto per le donne e anche intervengono altri fattori legati allo stress che comunque c'è in questo periodo dell'anno quindi dover prepararsi alle feste, dover stare sempre in giro, cambiamento di stili di vita, di abitudini, di orari quindi sicuramente l'alimentazione ma non è tutto, non è l'unica colpevole del disturbi gastrointestinali in questo periodo dell'anno.